Nessun aumento delle tariffe per irrigare i campi nella zona del Partinicese. Il Consorzio di Bonifica Palermo 1, ente che gestisce il servizio di distribuzione idrica dalla D. Gaiato per l'Agricoltura, Partinico, Borgetto, Balestrata e Treppeto, ha confermato le tariffe del 2015 in vista della prossima campagna irrigua che dovrebbe essere in via di partenza. La tariffa più alta sarà pagata da chi ha fragoleti o serre, per cui il Consorzio stabilisce che per ogni ettaro saranno necessarie all'incirca 4.000 metri cubi di acqua, moltiplicato per i 15 centesimi a metro cubo, quindi chi ha questo tipo di cultura dovrà corrispondere 600 euro per ettaro. Si dovranno invece corrispondere 450 euro in caso di approvvigionamenti richiesti per agrumeto adulto, ortive estive, erbaie ed anguria. In questo caso il consumo forfettario stabilisce che necessiteranno 3.000 metri cubi di acqua per l'intera stagione. Chi invece vorrà innaffiare frutteti, agrumeti giovani, ortive invernali, melone e mais, corrisponderà a 322,50 euro. Tirano un sospiro di sollievo agli agricoltori di questo comprensorio, considerato il rincorrersi di voci legate proprio ai consorsi di bonifica di tutta la Sicilia, a cui la regione ha tagliato i contributi. Manovra che ha costretto molti di questi enti ad aumentare le tariffe, anche in modo corposo. Qui invece è stato tutto confermato, ed è una notizia non da poco, considerando il momento molto difficile per l'agricoltura, che sta attraversando una grave crisi di mercato. L'ultimo aumento delle tariffe in questo territorio risale al 2013, quando l'allora direttore del consorzio palermitano stabilì un aumento dei consumi di acqua del 25%. Le tariffe passarono da 12,15 centesimi al metro cubo, il che ha comportato aumenti per un'intera stagione di irrigazione, che hanno oscillato dai 30 agli oltre 100 euro per ogni ettaro coltivato. Ovviamente la tariffa cambia a seconda dei metri cubi consumati e dell'ampiezza dei terreni da coltivare. Infatti il consorzio di Bonifico ogni anno stila una tabella nella quale fissa il fabbisogno idrico a seconda della coltura. Ora si attende il via libera per l'erogazione dell'acqua. Intanto dal consorzio già sono state avviate le prenotazioni, saranno effettuati dei controlli per verificare la regolarità dei pagamenti ed il servizio usufruito.